Ieri Boulaye Di A è stato operato a Lione e l'intervento di pulizia al menisco sinistro è perfettamente riuscito. In 40 giorni al massimo l'attaccante senegalese sarà pronto per cominciare la nuova stagione dopo aver chiuso in anticipo quella in corso con un bottino di 16 gol. Di A sarà uomo mercato per la Salernitana anche se nel verci di ieri con il DS Morgan De Santis e l'amministratore delegato Maurizio Milan, il presidente Danilo Esbolino ha ribadito che il senegalese andrà via solo in presenza di un'offerta importante. In caso contrario, una volta verificate le sue intenzioni ed aspirazioni, Di A sarebbe il fiore all'occhiello della squadra che sarà affidata a Paolo Sousa cui spetterà il compito di farla crescere e progredire ancora. Come per Di A il discorso vale anche per Koulibaly e Daniluk senza dimenticare Mazzocchi. Scattate le condizioni per il riscatto, Antonio Canreva potrebbe diventare a sua volta uomo mercato. Ci sarebbe una suggestione Lazio per lui, presente domenica scorsa alla festa del club bianco celeste di cui è da sempre tifoso e nel quale è anche militato a lungo. Il presidente Danilo Esbolino ha chiesto di dare un'asfoltita al Montengaggi collocando sul mercato chi non rientra nei piani. Non solo i calciatori che rientreranno dai rispettivi prestiti, Sime e Michel ad esempio, ma vanno avvalutate anche le posizioni di quei calciatori presenti in rosa. Maggiore e Bonazzoli hanno reso molto al di sotto delle aspettative e le attenuanti più o meno genetiche valgono fino ad un certo punto. Gli ingaggi dei due calciatori sono importanti e pesa anche il costo dei rispettivi cartellini. Saranno riscattati quelli di D.A., Pirola e probabilmente Vilena. Difficilmente si farà altrettanto per Nicolussi, Caviglia e Troste e Kong, a meno che non si rivedano le cifre. Chiuso, increscendo il campionato per quel che riguarda continuità di prestazione e rendimento casalingo, a Cremona Paolo Sosa cercherà la sua prima vittoria esterna sulla panca Granata. Lo farà senza lo squalificato Vilena e gli infortunati D.A., Valencia e Braderic. Tutti gli altri sono a disposizione e non si esclude che dopo ieri volino anche qualche altro giovane della primavera, che domani al Volpe dovrà rimontare tre gol alla regina per evitare la recessione, possa esordire in prima squadra. Dopo la gara di sabato sera ci sarà il rompete le righe. Poco più di un mese di ferie per tutti. Ai primi di luglio sono già fissate le visite mediche. Nel ritiro si terrà per la prima parte a Rivisondoli e poi, nell'ultima settimana di luglio, si sposterà a Fiuggi, dove si disputeranno test amichevoli più probanti in vista della Coppa Italia e del campionato. A breve ci sarà il varo della campagna abbonamenti, mentre già domani sera, in occasione della festa voluta dalla Società per la Salvezza, verranno presentate le maglie per la prossima stagione.